Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come boostare gli FPS su Fortnite ovviamente ci sarà anche il pacchetto per boostare gli FPS che ti ho lasciato in descrizione e andremo passo dopo passo quindi in questo caso questi sono i passaggi che faremo oggi riguardo alle prestazioni sulla scheda video il prompt dei comandi, la compatibilità che useremo sulla proprietà di Fortnite lo stream pacchetto che sarebbe il pacchetto da scaricare su Epic Games l'aggiornamento dei driver riguardo alle impostazioni di Nvidia MD e nuove impostazioni da mettere tutto basso e poi il pacchetto di quello che vi ho parlato, il pacchetto boost FPS che ti ho lasciato in descrizione questo qua è Nvidia Profile Inspector e poi più avanti ti farò vedere come usarlo quindi sulle prestazioni sulla scheda video se noi adesso andiamo un attimo su impostazioni grafica eccola qua, sfoglia le applicazioni da aggiungere su questa impostazione grafica andiamo sul volume del disco dove ha installato Fortnite quindi in questo caso vado su Fortnite, Fortnite Game, Binaries Win64 e Fortnite Client Win64 Shipping l'applicazione che pesa di più rispetto alle altre quindi 300 MB e aggiungiamo questa una volta aggiunta questa impostazione andiamo su Opzioni, Prestazioni Elevate quindi la scheda video darà anche maggiore potenza al gioco non usare l'ottimizzazione per i giochi in modalità finestra questa mettiamola così com'è e salviamo una volta fatto passiamo direttamente al prompt dei comandi quindi cmd esegui come amministratore il prompt dei comandi e andiamo anche a fare una scansione sui file ed eliminare varie cache sul gioco sfc spazio slash scanno e farà così l'avvio dell'analisi del sistema e vediamo se c'è qualche problema nel nostro computer quindi poi andiamo un attimo su Fortnite quindi andiamo direttamente nella sua carta quindi tre puntini, gestisci, vai sulla cartella di Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 andiamo fino a giù fino a trovare il Fortnite Client Win64 Shipping proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione di schermo intero, modifiche impostazioni di API elevate eseguo la varie del comportamento di ridimensionamento di API elevati sull'applicazione facciamo ok e fai ok una volta fatto lo streaming pacchetto su Fortnite che sarebbe questo tre puntini, opzioni ed eccolo qua per scarica le risorse trasmesse sono 6.45GB ovviamente se avete Fortnite che pesa tipo 80GB perché avete la textura ad alta risoluzione quindi io quello che vi consiglio di fare è rimuovere questa textura ad alta risoluzione risparmiare anche un po' di spazio e rimuovere anche la textura per esempio se avete una scheda video di una fascia bassa e media però avete questa textura ad alta risoluzione che non serve proprio a niente perché vi farà solamente laggare quindi togliete questa cosa mettete il prescarica delle risorse trasmesse e poi andiamo a fare le modifiche sul gioco ok una volta arrivati su Fortnite andiamo nelle impostazioni e andiamo a fare varie modifiche ovviamente puoi anche fare più FPS grazie alla riduzione della finestra ovviamente risoluzione puoi anche metterla più bassa più che vuoi perché io in passato ho realizzato dei tutorial su come mettere una risoluzione propria e ridurre così anche la grafica e fare più FPS ovviamente se andiamo fino a giù fino a trovare la risoluzione super risoluzione temporale prestazioni risoluzione 3D 50% risoluzione 3D dinamica no questa no ombra invece mettiamo su medio diminuzione globale mettiamo no distanza visuale lontano perché se tu metti vicino non è che vedi in granchita lontano i giocatori texture mettiamo medio effetti mettiamo ridotto post processing ridotto scendiamo fino a giù fino a trovare l'on più boost nvidia reflex e bassa latenza e fai applico e ora non ci resta che passare così a nvidia profile inspector il programma che ti ho detto che sta in descrizione il pacchetto se hai problemi con il link entra nel mio server al disco ti passa direttamente io questo pacchetto e puoi fare così il settaggio su tutte queste impostazioni quindi sul text filtering questo qua lo metti su on sul text filtering load bias questo qua lo metti su più 0.5000 e fai la stessa cosa anche qua sopra ed eccolo qua ovviamente qui sul profilo tu puoi scegliere qualsiasi gioco per esempio tu vai a scrivere fortnite e ti dice anche il percorso file della tua cartella come puoi vedere fortnite client 1.64 test.exe fortnite client 1.64 shipping le stesse cose che ha fortnite nella sua cartella e si collega direttamente al suo percorso file tu basta che scrivi fortnite qua e puoi modificare ogni impostazione qua sopra e fai applica questi cambiamenti chiudiamo qua poi per non parlare del GeForce Experience un ottimo programma un ottimo software che ti aiuta ad aggiornare così la scheda video e ti aiuta anche a ridurre un po' le impostazioni grafiche su qualsiasi gioco che tu hai installato sul tuo pc ovviamente per quelli che hanno Nvidia c'è GeForce Experience per quelli che hanno AMD il programma si chiama AMD Radeon Graphics se invece adesso andiamo su fortnite dettagli ed eccolo qua noi possiamo ottimizzarlo automaticamente oppure scegliere così le nostre impostazioni per esempio qualità HD mettiamo prestazioni e facciamo applica abbiamo disattivato qualsiasi cosa su fortnite l'antiagliosi distanza di visualizzazioni effetti la geometria il limite frequenza fotogramma ovviamente questa è limitata quindi farai più fps sul gioco modalità di rendering DirectX 11 ombre disattivato post elaborazione basso riflesso disattivato la risoluzione Full HD a me però se tu riduci così questa risoluzione e aumenti la risoluzione 3D stai certo che vedrai fortnite benissimo con un rendering molto alto però la risoluzione è molto ridotta ti consiglio di guardare il video in alto a destra su come creare una propria risoluzione a fortnite così giochi come vuoi come più ti piace e le texture tutte basse il V-Sync disattivato quindi non bloccherà così gli fps rispetto al tuo monitor Reflex che sarebbe il Nvidia Reflex più il Boost attivato sincronizzazione verticale usa l'impostazione dell'applicazione 3D e se vai ad avviarlo lo avvii proprio con queste impostazioni e ovviamente mi raccomando fai sempre aggiornamenti sulla tua scheda video ho fatto l'aggiornamento proprio ieri e puoi cercare il tuo aggiornamento qua e basta quindi per altri tutorial che ho realizzato altri tutorial in passato su come boostare gli fps su fortnite funzionano più di 300 fps vabbè io ho una scheda grafica 1660 super però non è affatto male quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti e lasciate un like per altri problemi ragazzi commentate e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao